cari amici di fano tv buonasera e benvenuti al secondo appuntamento dedicato a passaggi festival la manifestazione che celebra la saggistica libri e molto altro ancora l'edizione più lunga quella dal 18 al 25 giugno la nona edizione e ne parliamo subito con il direttore e artistico giovanni belfiori buonasera buonasera e grazie per l'attenzione che fanno tv riserva il festival e una delle addette stampa la nostra brigida gasparelli buonasera buonasera allora tanti gli appuntamenti quest'anno un calendario particolarmente ricco i libri iniziamo a divorarli a colazione sì per il secondo anno noi proviamo a portare i libri sul lungomare e lo facciamo in orari diciamo così inconsueti per delle presentazioni librarie perché iniziamo alle nove e mezza del mattino l'anno scorso abbiamo provato il risultato è stato ottimo al al lido di fano alla gelateria bonbon arcafe e quest'anno raddoppiamo perché perché non solo torneremo al bonbon ma apriamo una nuova sede a bagni torrette quindi cerchiamo di portare libri saggi in questo caso anche durante le ore del mattino offriamo il caffè offriamo un giornale a chi interviene e poi c'è l'autore che viene intervistato dal da un giornalista da una giornalista quest'anno gli incontri sono tanti si inizia proprio al bonbon con lucio zanca un libro interessante perché parla di come i giovani e non soltanto i giovani affrontano il mondo del lavoro e come si può progettare la propria strada poi ci sono tanti altri autori autrici per esempio lo stesso giorno che il 18 giugno il giorno di inaugurazione del festival già da palma presenterà il suo libro donne che innovano lei ha fatto un lavoro molto particolare è andata a cercare donne imprenditrici particolarmente innovative non soltanto imprenditrici in tutta europa e le ha intervistate in videocall ha raccolto delle testimonianze davvero interessanti poi abbiamo un altro libro sulle donne pioniere storie di italiane adesso non li leggo tutti ma ne cito qualcuno mauro mandrioli che è un docente universitario molto bravo che ci parlerà del problema dell'alimentazione della sovrappopolazione e dell'agricoltura è un libro molto interessante e curioso quello che anna rita briganti presenterà al bonbon il 22 giugno sarà su coco chanelle e poi abbiamo giulia guazzaloca uomini e animali abbiamo chiara lessi che chiuderà il 25 giugno con tante care cose gli oggetti che hanno cambiato la vita alessi naturalmente l'alessi del marchio del marchio alessi di design quindi abbiamo questa rassegna questi due due appuntamenti lido e bagni torrette in questa rassegna del mattino libri a colazione che ci sembra possa offrire una proposta culturale sicuramente interessante bene e in questo appuntamento che io amo chiamarlo un po assaggi di passaggi perché ci sta facendo venire come dire l'acuolina si vocifera proprio in questi giorni un nome c'è un nome che circola uno su tutti vorrei accavallare le gambe come faceva lei ma sarà impossibile sharon stone quest'anno adesso possiamo anche svelare che cosa è successo sì noi avremo la presentazione del libro di sharon stone sarà in video collegamento da los angeles sarà intervistata da silvia bizzio di repubblica che è una giornalista molto brava che si occupa di cinema e da uno dei più grandi critici cinematografici italiani che è paolo merighetti del corriere della sera che perché sharon stone allora l'anno scorso e forse ricordate che è venuto a passaggi che noi abbiamo aperto il festival con oliver stone in presenza un grande nome del cinema uno dei grandi nomi davvero importanti e a tavola anche in quel caso oliver stone fu intervistato da silvia bizzio a tavola facemmo una scommessa diciamo ma perché non proviamo a portare sharon stone dopo oliver stone e silvia bizzio è amica di sharon stone guarda caso a los angeles è una giornalista italiana ma da tanti anni vive negli stati uniti d'america e ci abbiamo lavorato un po in fretta e all'ultimo minuto perché noi sinceramente si pensava che insomma quest'anno fosse un anno libero dal covid purtroppo non è così e quindi abbiamo detto addirittura eravamo incerti su quando fare il festival ci siamo mossi tardi quest'anno sarebbe stato davvero impossibile averla in presenza però insomma sarà un avvenimento lo stesso importante anche se in video collegamento del resto anche la rai quando ha intervistato ha presentato il libro a che tempo che fa l'hanno fatto in video collegamento da los angeles l'appuntamento ecco lo volevo soltanto rammentare l'appuntamento con il libro di sharon stone è lunedì 21 giugno alle ore 21 in piazza 20 settembre bene poi più tardi vi daremo anche tutte le indicazioni per poter prenotare e partecipare ai vari eventi allora con brigida gasparelli invece parliamo proprio del tema di quest'anno il tema della nona edizione di infinito e provvisorio allora il tema è nato da una riflessione che ho fatto con giovanni abbiamo cercato un tema che fosse legato al presente a quello che siamo a quello che stiamo vivendo che stiamo vivendo e siamo partiti inevitabilmente dal provvisorio perché mesi fa quando è nato questo tema più di adesso c'era diciamo intorno a noi una vivevamo dell'incertezza sappiamo tutti relativamente la condizione in cui ci siamo trovati in quest'ultimo anno il provvisorio è stato il sentimento che in qualche modo in questi mesi è entrato prepotente dentro le nostre case nelle nostre vite ci ha imposto delle scelte ma non soltanto il provvisorio come caducità come diciamo ciò che finisce e si esaurisce nell'istante ma proprio l'istante come elemento prezioso perché unico e quindi da giocarsi fino in fondo e da lì dal provvisorio ci siamo subito legati all'infinito che è l'altro aspetto che ci che è connaturato in noi ce ne siamo accorti allo stesso modo in questi mesi quando ci hanno tolto gli abbracci ci hanno tolto i contatti la possibilità di condividere i momenti e quando ci siamo diciamo abbiamo trovato conforto nei libri nella poesia nella letteratura nell'arte questi due aspetti antitetici ma con mai legati dipendenti quasi l'uno dall'altro in qualche modo raffigurano rappresentano ciò che siamo ciò che più ancora ciò che siamo ora perché se è vero che di infinito e provvisorio siamo sempre stati è vero che adesso ne siamo consapevoli per quello che abbiamo vissuto e quindi possiamo raccontarlo dopo diciamo questo primo nucleo del tema che è un po il nucleo centrale siamo approdati a dante ci siamo arrivati un po come è nato questo tema un po quasi inevitabilmente ci siamo approdati e ci siamo approdati grazie ad una poesia di guido gozzano che si intitola l'amico delle crisalidi che se volete andare a leggere vale la pena leggere nella quale il poeta appunto cita l'infinito e l'assoluto e cita proprio dante cioè rimanda ai versi danteschi giovanni ha trovato poi il verso che faceva riferimento a questa citazione cioè non vi accorgete voi che noi siamo vermi nati a formare l'angelica farfalla che è il verso che va e abbiamo messo a corredo della diciamo del titolo centrale di infinito e provvisorio brigida tal proposito quindi crisali di farfalla io mi soffermerei anche proprio sul sul logo e sulla grafica della locandina di passaggi esatto la grafica ha avuto il merito secondo me non soltanto di esprimere il contenuto del tema che è un contenuto complesso sul quale ci si può potremmo parlare ore no e quindi già era difficile renderla in immagini ma ha avuto il merito di arricchirla arricchire questo tema arricchire il contenuto delle parole e il merito va a due grafiche a due giovani creative che sono federica campanelli e federica falciasecca che hanno creato questa immagine che voi vedete dietro di me e che ha come protagonista appunto una figura di uomo che cammina sul filo il filo il verso dantesco che vi ho citato prima e la capacità di questa immagine questa immagine non rende soltanto la provvisorietà dell'uomo che cammina sul filo ma rende anche la scelta diciamo di avere alle spalle ali di libro che in qualche modo che sono più di un paracadute sono proprio sono più di una salvezza sono proprio la scelta di di vivere in un certo modo e esprime la caducità esprime la provvisorietà però esprime anche la leggerezza di vivere nella provvisorietà e non è la leggerezza intesa come superficialità ma è la leggerezza di calvino cioè la leggerezza di vivere con l'animo libero in qualche modo no e poi questo camminare sul filo che è il verso della poesia è un altro spunto ancora il verso va verso la va verso l'alto scusate il gioco di parole ed è la poesia è qualcosa che ci creiamo noi lo possiamo creare più o meno robusto più o meno fragile questo filo no e quindi ci sarebbe tanto da dire su questa immagine sono state bravissime a creare e a dire più di quanto originariamente quasi dice il titolo il 25 giugno in piazza 20 settembre ci sarà un appuntamento che forse lo si può considerare il cuore del festival grazie al presidente del comitato scientifico appunto del del festival andando dalla chiesa ci sarà questo discorso informale tra pubblico e privato e tra ragione e sentimento sì l'abbiamo chiamato discorso notturno di infinito e provvisorio è un'idea che una intuizione che ha avuto giovanni poi magari ce ne parlerà meglio anche lui chiude il festival ed è per noi una un onore diciamo a chiudere il festival in questo modo abbiamo scritto che il cuore del festival perché in effetti crediamo che lì ci sia il festival proprio c'è tutto quello che sono sta saranno saranno e lì saranno già stati gli otto giorni di festival c'è lì ci saremo tutti noi lì dentro sì la chiusura del festival sarà una chiusura molto particolare dalle 11 di sera fino a mezzanotte venerdì 25 appunto in piazza 20 settembre questa io andando gli ho proposto un alexio magistralis nando mi ha detto no guarda non è non può essere un alexio chiamiamolo discorso notturno discorso notturno sull'infinito e il provvisorio sono stato felice che nando che nando dalla chiesa abbia accettato nando esce da un lutto molto doloroso noi l'abbiamo scritto sul sito l'abbiamo scritto sui social il corriere della sera ha dedicato una pagina intera ma tutti i giornali italiani ne hanno parlato noi abbiamo perso una grande amica del festival emilia cestelli è morta di recente scomparsa la moglie di nando dalla chiesa emilia è una persona è stata una persona che amava fano e amava il festival per lei il festival era un appuntamento irrinunciabile non era facile per nando accettare di tornare anche quest'anno a fano lo ha fatto ha accolto il mio invito proprio a a venire a fare la chiusura di questa manifestazione ecco è una cosa importante credo che sarà davvero il cuore anche se è l'ultimo pezzo del festival il cuore di passaggi festival 2021 per partecipare alle giornate alle serate del festival è necessario prenotare adesso vi diciamo come e lo facciamo con la nostra prossima ospite diamo subito allora il benvenuto alla responsabile dell'ufficio prenotazioni licia rosciglione buonasera buonasera grazie sì innanzitutto diciamo che l'ingresso agli eventi è assolutamente gratuito fino ad esaurimento posti per cui è consigliata la prenotazione onde evitare assembramenti e anche per assicurarsi il posto agli eventi e le prenotazioni si sono aperte proprio lunedì 7 giugno e prenotare è molto facile ci sono diverse modalità si può prenotare direttamente online sul sito di live ticket punto it e sono disponibili due posti per ogni prenotazione un'altra modalità di prenotazione è quella telefonica si possono chiamare i due numeri che vedete in sovraimpressione ad orari stabiliti che ovviamente potete trovare all'interno del sito di passaggi festival alla voce prenotazioni altrimenti potete inviarci una mail al nostro indirizzo passaggi.prenota.gmail.com specificando nominativo quindi nome e cognome un ricapito telefonico e il numero di posti prenotati massimo due allora in sostanza la prenotazione è consigliata ma non è obbligatoria e la prenotazione riguarda solo gli eventi di piazza 20 settembre e il pincio ovviamente chiediamo al pubblico gentilmente di disdire la prenotazione qualora insomma dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo e agli ingressi ci saranno appunto due postazioni per monitorare le entrate il numero di posti disponibili in modo tale che chi volesse partecipare anche senza prenotazione può farlo può avere la certezza della disponibilità dei posti giusto? Esatto assolutamente ci saranno due postazioni una in al pincio e una in piazza 20 settembre in cui appunto distribuiremo i biglietti alle persone che non potranno essere presenti quindi in questo caso chiediamo come dicevi tu l'accortezza alle persone che non potranno recarsi all'evento di avvisarci preventivamente in maniera tale da poter ridistribuire poi i biglietti ad altre persone sul luogo dell'evento e direttamente in prossimità diciamo dell'inizio dell'evento stesso. Perfetto direi che questo nostro secondo appuntamento termina qua diamo l'appuntamento e mi ripeto alla prossima settimana con altri assaggi di passaggi io ormai lo chiamerò così questo spazio eh Giovanni? Va benissimo anzi è un bel nome e grazie. Grazie a te grazie alle nostre ospiti e naturalmente al nostro regista Riccardo Sora e a tutti voi per l'attenzione buon proseguimento con i nostri programmi